In questo festival di Sanremo 2018 che si avvia e tra infatti qualche giorno di tempo ci sarà, pensate che sarà presente anche il grande Pippo Baudo all'interno della Kermes Canora in questione. Il Pippo nazionale torna sul palco del teatro Ariston nella seconda serata del festival 2018. Fu un ritorno in grande stile per lui il re dei presentatori televisivi. Vi ricordo che sarà l'occasione per celebrare i 50 anni dalla sua prima conduzione nel lontano 1968. Dunque un ritorno in grande stile per il Pippo nazionale che, ripeto, nella seconda serata del festival farà la sua apparizione, farà la sua presenza. Grazie in primis per l'ascolto, in secondis per la visione del presente video. Iscrivetevi, commentate e al prossimo video.